Diciamo che l'età media nel nostro paese è molto alta, in questi tipi di ruoli anche, ruoli di responsabilità, ruoli di gestione eccetera, mentre fuori, e tu ovviamente viaggiando lo vedi spesso, questo invece è un'inversione di tendenza, ormai tutti i manager, tutti i manager più grandi aziende, non solo le start-up, sono giovani, sono under 30 eccetera. Io credo che spesso però sia anche una scusante, credo che alla fine l'età sia un non problema, nel senso è importante che ci siano giovani, è importante che ci siano persone meno giovani, il tema vero è ripartire dal talento e dalla qualità della persona, se una persona ha 70 anni ed è veramente più brava, è ancora un grande valore. I miei genitori avevano un ristorante e era l'anno in cui Facebook cominciava a diventare importante, ma come possiamo comunicare un ristorante in modo diverso? Come possiamo promuoverlo e comunicarlo per portare nuovi clienti, perché magari vedevo le difficoltà di famiglia di avere clienti e portarli, con canali totalmente diversi. Siamo stati uno dei primi ristoranti, per esempio, ad avere un sito web di un certo tipo, siamo stati uno dei primi ristoranti ad avere una pagina Facebook, utilizzarla non solo per esserci, ma per raccontare le storie e le persone che venivano al ristorante. Siamo stati il primo ristorante in Europa a portare il menù su iPad, sei mesi dopo che Steve Jobs aveva presentato l'iPad, siamo finiti sulle Figaro, su tutti i più importanti giornali al mondo, per questa idea un po' diversa. Credo che il tema vero oggi sia provare a costruirsi delle piccole sfide quotidiane in un modo diverso. È il mio partito di sicuro dal comunicare un ristorante in modo diverso. Ma l'hai comunicato scrivendo tu il codice del sito in particolare? Non sei mai stato un programmatore? A metà e metà. Qualcosina, diciamo, più aggregavo e modificavo codice più che scriverlo da zero, ma c'è stato un periodo in cui un po' di codice lo scrivevo. Quindi sei un po' smanettone ovviamente. Assolutamente. Purtroppo lo sto un po' perdendo. Eh vabbè, bisogna esercitarsi perché poi cambiano, cambiano i linguaggi come cambiano i nostri. Quando hai deciso quale sarebbe stato il tuo lavoro, sicuramente non della vita ma una fase importante della tua vita, com'è che hai comunicato a tua madre o a una zia anziana quello che volevi andare a fare? Ma forse non l'ho mai comunicato, questo è stato il tema diverso. Ancora oggi ogni tanto non è facile capire cosa faccio e di cosa mi occupo. Ogni tanto mia nonna mi dice ma perché dovete, devi avere tutti gli uffici in giro per il mondo, non potete tenerli tutti a Brescia e non andare in giro? Dico no, no, nonna, ma noi è un po' più complesso, diciamo, il nostro lavoro. Il tema vero è che ho sempre provato a seguire quello che mi piaceva fare e a metterlo a terra, cercando poi di sostenermi grazie a quello. E questa è stata un po' la mia cosa, non dover chiedere magari, ma dire guarda prova a fare questa cosa, riesco anche a guadagnarci due soldi, poi da quella ce ne attaccavo un'altra, poi ancora di tattica mi muovevo per cercare di capire qual era la cosa più interessante. Oggi TAG è nato un po' così, non è nato con l'idea del creiamo un grande network europeo, è nato come creiamo un piccolo luogo a Brescia per mettere insieme un po' di amici. Il tema vero è stata poi la tattica nel day by day del capire che poteva arrivare a qualcosa di molto più grande e ancora oggi cerchiamo di capire, io non faccio mai piani oltre i tre anni perché non riesco a immaginarmeli, non riesco a pensarli, tanto quanto in poi magari invece durante l'anno sono in grado di modificare, di cambiare il percorso per adattarlo a quello che è la condizione di mercato. Partiamo un po' ai numeri di Talent Garden, come state e come avete chiuso il 2017? Il 2017 è stato per TAG un anno molto importante, noi siamo nati sei anni fa e in questi sei anni abbiamo più o meno ogni anno raddoppiato il fatturato, raddoppiato il numero di sedi, raddoppiato il numero di dipendenti e di membri e di studenti che studiano nei nostri campus, quindi è un anno importante, abbiamo superato i 9 milioni di fatturato, siamo una realtà oggi che conta un'ottantina di persone e di team sparse tra 18 diverse città in sei paesi europei e le sfide principali del domani sono proprio raddoppiare ancora, oggi diventa un pochino più difficile perché la dimensione comincia a diventare importante, ma comincia a diventare una sfida bella europea dove l'obiettivo è costruire un po' il più grande gruppo di innovazione digitale in Europa, un gruppo che sta e connette anche l'Europa aiutando le diverse imprese a vivere il loro territorio, imparare sul loro territorio ma essere poi in grado di connettersi a livello europeo. Quanto contano nella vita di ogni giorno dei bravi collaboratori, che poi diventano anche dei soci in questo caso? Fondamentale, io dall'inizio ho avuto la fortuna e sfortuna di partire totalmente da solo come fondatore, nel senso che sono partito con due amici, uno è uscito subito dopo, un altro è stato con me qualche anno, ma diciamo sono sempre stato un po' il fondatore della cosa. Il tema vero e la sfida vera è stata riuscire ad aggregare persone molto più intelligenti di me, vicino ed è stato l'unico modo per crescere i tag, oggi io non sono il valore di tag, sono solo una persona che prova a rappresentarlo, a raccontarlo e a far sì che segua una giusta strada, ma il vero valore di tag oggi di sicuro sono le persone che lo compongono, che lo vivono ogni giorno, che lo portano avanti, ognuno nel suo ruolo, più o meno importanti, dico sempre siamo tutti importanti perché il valore vero è ciò che riusciamo a trasmettere al nostro cliente, è ciò che il nostro cliente riesce a vivere grazie a Telengard. Vogliamo provare a immaginare in una sorta di timeline della tua giovanissima comunque vita tre momenti fondamentali, da quando ovviamente eri un bambino fino ad oggi che sei un imprenditore, uno di quelli nella fase anche di scale up, definiamo, nell'ecosistema italiano dell'innovazione. Ma diciamo che ho cominciato fin da piccolo a avere la passione per la comunicazione e per il digitale e questo mi ha portato appena finito alle superiori a forse il primo vero passaggio che è stato quello del diventare consulente prima e poi imprenditore con una piccola realtà che si occupava di social media marketing e di sviluppo mobile ed era il 2009, quindi gli anni all'inizio dove ancora si doveva spiegare alle aziende che i social network potessero essere un'opportunità. Quanti anni avevi? 19. A 19 anni. Il secondo grande passaggio è stato quasi due anni, due anni e mezzo dopo quando per la prima volta per una serie di disguidi con gli altri soci abbiamo capito che non avere una visione allineata non ci portava a nessuna parte, abbiamo capito che non aveva più senso quel progetto e sono entrato in una grande impresa e quindi ho fatto questa esperienza diciamo del passare dall'altra parte della barricata e provare a capire come invece si lavora in una grande impresa e come le grandi imprese funzionano che è stato un passaggio secondo me fondamentale anche della mia crescita professionale. E il terzo passaggio di sicuro è stato quello dell'unire un po' il primo e il secondo mondo, quindi l'esperienza più di imprenditore e l'esperienza della grande impresa, cercare di costruire un ecosistema dove imprenditori potessero germogliare connessendosi più velocemente con le grandi imprese e quindi l'esperienza di Talengarden. C'è stato un momento nel quale abbiamo visto nella vostra storia, nella storia di Talengarden, un importante round di investimento, 12 milioni se non erro. Com'è che avete stabilito quali dovessero essere le priorità con i quali ovviamente, perché chiariamo anche questa cosa, nel mondo delle start-up non è che diventa ricco Davide Dattoli perché arriva l'investitore e quelli sono soldi che danno a lui, no, vengono reinvestiti ovviamente ricerca e sviluppo e altro. Ecco, com'è che avete stabilito quali dovessero essere le priorità nella fase anche di maggiore crescita di Talengarden? Ma ogni tanto il tema vero è che bisogna fermarsi, guardare che cosa si ha e capire dove davvero bisogna puntare. Non ha senso disperdere il valore su mille piccoli rivoli, bisogna capire quello che ha più valore e farlo davvero crescere. E quello è anche il motivo per il quale coinvolge gli investitori. Capisci che qualcosa ha un grande potenziale ma ti serve essere molto più veloce del mercato e ti serve scalarlo velocemente. Davide, c'è una leggenda che gira sul mondo dei co-working, poi in realtà dipende anche dalle abitudini di lavoro di ciascuno di noi, ma dicono per esempio che il co-working uccida la produttività. È vero, non è vero, perché? È forse l'opposto, cioè esistono ricerche di ogni tipo, ma quello che ne abbiamo visto vedendolo tutti i giorni è che il co-working è l'unico modo di essere più produttivi, di lavorare in modo diverso, dell'essere scalabili. Ognuno di noi oggi può lavorare da casa, può avere un proprio ufficio in un paese come l'Italia dove ci sono 6 milioni di immobili inutilizzati, ma ognuno di noi è solo, in un angolino, chiuso in casa e connesso con tutti gli strumenti tecnologici. Oggi la vera sfida è stare insieme agli altri, è confrontarsi. L'unico modo per crescere davvero è fare discorsi con gli altri, confrontarsi, crescere insieme. Il co-working questo lo mette insieme, poi ci sono spazi chiusi, spazi aperti, spazi totalmente open space. È il campus che si evolve, noi non li chiamiamo co-working, talent garden, ma sono proprio dei campus fisici dove tu puoi lavorare, dove tu puoi imparare, dove tu vuoi connetterti con gli altri. Crediamo che la sfida oggi sia dare una casa fisica a chi di digitale si occupa tutti i giorni per permettergli di essere davvero connesso con gli altri, di confrontarsi ogni giorno e di fare questo lavoro in modo un po' diverso. È la scelta di fare proprio ad esempio ambienti open space piuttosto che ambienti più chiusi perché anche nei vostri spazi avvengono queste divisioni su divisioni. Ecco, dal punto di vista non dell'imprenditore che fornisce il servizio, ma dal punto di vista del lavoratore digitale eccetera, secondo te quali sono i meccanismi che si mettono in campo per scegliere piuttosto un open space da un ufficio con le pareti? Oggi credo che sia ancora un tema molto culturale, cioè noi siamo un po' come italiani, ci piace l'idea dell'ufficio chiuso e quindi in talent garden oggi circa il 40% dei nostri membri lavora in uno spazio chiuso all'interno di un luogo di co-working. Il 40? Il 40. Quindi 4 su 10? 4 su 10. Questo però è in realtà una cosa che secondo me dipende tanto dalle diverse entità e dei diversi business che fanno. Io faccio un esempio, noi oggi come talent garden siamo un'ottantina di persone di team che lavorano, soltanto la metà di questa lavora fisicamente nei campus, più della metà sono tutta la fase organizzativa che c'è dietro. Io per primo non ho un mio ufficio, lavoro in totale open space con una scrivania condivisa perché per esempio questo mi permette di non avere barriere, di non avere quella scrivania dove diventa un casino e appena ti siedi già ti incasini la testa. Diventa un modo per lavorare in modo più flessibile e stare vicino alle persone quando ne hai bisogno. Poi culturalmente a molti di noi invece ci piace avere il nostro luogo chiuso in qualche modo per stare insieme. Credo che la sfida oggi non sia se lavorare in open space o lavorare in un piccolo spazio chiuso ma sia l'idea del dire o facciamo sistema o facciamo quei famosi distretti industriali per cui l'Italia è diventata famosa nel mondo e lo facciamo anche nel mondo del digitale condividendo scrivanie e connessioni a internet oppure il rischio che il mondo del digitale italiano resti a un livello piccolino, non competitivo a livello mondiale perché non faccia sistema tra se stesso. Tu oggi sei un imprenditore, sei anche un giovane imprenditore. Spesso queste due cose non coincidono, siamo un paese dove forse la classe dirigente in questo caso ci mettiamo dentro imprenditori, investitori, politici, tutti, bancari. Diciamo che l'età media nel nostro paese è molto alta in questi tipi di ruoli anche, ruoli di responsabilità, ruoli di gestione eccetera, mentre fuori e tu ovviamente viaggiando lo vedi spesso, questo invece è un'inversione di tendenza, ormai tutti i manager, tutte le manager più grandi aziende, non solo le start up, sono giovani, sono under 30 eccetera. Ecco, secondo te perché ancora qui si fatica ad arrivare ad adeguarci anche a quelle età medie nel mondo, non solo ripeto nel mondo dell'impresa ma un po' dappertutto? Io credo che spesso però sia anche una scusante, credo che alla fine l'età sia un non problema, nel senso è importante che ci siano giovani, è importante che ci siano persone meno giovani. Il tema vero è ripartire dal talento e dalla qualità della persona, se una persona ha 70 anni ed è veramente più brava è ancora un grande valore. Credo che la sfida ogni tanto sia del dire giovane per giovane a ogni costo e il rischio sia mettere anche persone che hanno poco senso, come dall'altra sia dire no, se non hai almeno 20 anni di esperienza non puoi fare questo lavoro. A me è capitato, stavo facendo un colloquio ancora nella mia fase che lavoravo in una grande azienda, in un colloquio, questo capo del personale di un grande editore italiano, mi ha detto guarda no, non possiamo anche se quello che sarebbe il tuo capo è la persona che ti vuole e crede che tu sia la persona giusta dopo aver già lavorato con te, non credo io come capo del personale che tu possa esserlo, quindi non appoggerò la cosa per l'età. Credo che da entrambi i casi siano cose di atteggiamento molto sbagliati, dobbiamo ripartire dall'idea che se una persona è brava lo può essere a 20 o a 60 anni, non cambi, non sia quello il principio, sia la sua capacità di interagire con tutta l'età, perché di sicuro oggi nel nostro paese tante posizioni ancora importanti, tante leve decisionali sono in mano a persone con età più avanzate, quindi bisogna avere la capacità di relazionarsi e credo che tante volte l'età sia anche un vantaggio del non mettersi subito in competizione, ma partire dal dire stiamo provando un'esperienza nuova, stiamo facendo innovazione, credici con noi e forse qualche anno in meno diventa anche un vero vantaggio competitivo e quindi non ne avrei troppo paura del fatto che dall'altra parte ci siano persone molto più agere di noi. Se il curriculum per esempio, dal mondo di un giovane lavoratore, quanto è cambiata l'importanza di questo strumento nella ricerca del lavoro e nel tuo caso com'è che cerchi i talenti? Ma oggi cercare i talenti diventa una vera sfida, noi lo vediamo qua ogni volta che apriamo una posizione e riceviamo 4 o 500 candidature e selezionarle anche solo mettersi a leggere i curriculum diventa una cosa complicatissima e diventerebbe impossibile pensare di leggere, incontrarli tutti. Noi per esempio chiediamo sempre un progetto, cioè proviamo a mettere un challenge e diciamo prova a costruire 10 slide, non di più, dedicaci un'ora a rappresentare, a farci vedere quanto è il tuo valore. E la cosa bella è vedere quanto da magari 5-600 candidature arriviamo poi a 50-60 e quindi il dire tanto quanto è facile inviare oggi un CV, tanto quanto è difficile perderci un'ora. È vero che è un lavoro, ma è un lavoro anche per noi leggerla, è un lavoro anche per noi focalizzarci e valutare davvero una persona che è forse la cosa più difficile anche in 10 colloqui. Credo che la vera sfida oggi per un giovane che si voglia far vedere sia far vedere quanto ha voglia di fare, costruendo che esistono. Io mi ricordo quando sono partito da subito a cercare di costruire progetti che magari potessero essere anche esterni all'ambito lavorativo ma che dimostrassero che avevo voglia di fare e che quelle cose che dicevo di saper fare la facevo. Credo che la sfida oggi sia far vedere concretamente i propri progetti più che un CV che non dice nulla. Pensiamo al fatto che oggi le macchine, molti dicono, ci toglieranno il lavoro, c'è la disoccupazione tecnologica eccetera. Dall'altro ci sono quelli che dicono non è vero perché noi dobbiamo migliorarci attraverso la tecnologia, diventeremo una sorta di cyborg che dovranno fronteggiare un domani la supremazia delle macchine e delle intelligenze artificiali. Cosa ne pensi di questo? Cioè capiamo che ci sono dei cambiamenti, non sappiamo esattamente dove andremo, non sappiamo quali professioni si creeranno e questa paura ci porta a fare idee e stimoli di ogni tipo. Credo che oggi vada un po' vissuta, vada vissuta con tanta consapevolezza, che c'è un tema in cui tra intelligenza artificiale e robotica avremo un problema di lavoro ma dobbiamo anche capire quali saranno i nuovi modi di lavorare, dove si lavorerà, dove sarà richiesto lavoro. Se abbiamo passato dall'agricoltura all'industrializzazione riusciremo anche a passare dalla tecnologia a un mondo sempre diverso e in evoluzione. Senti, immaginando proprio questo mondo e magari anche l'Italia e l'Europa, fra un orizzonte temporale neanche tanto lontano, diciamo tra 20 anni, 2040, cosa immagini, come che lo vedi il mondo e come vedi l'Italia tra 20 anni? Credo che la sfida oggi davvero dell'Italia sia pensare internazionale. Noi siamo un paese che siamo abbastanza grandi, siamo 60 milioni di persone per avere un mercato interno e competiamo con grandi stati che hanno 500, 1 miliardo, 2 miliardi di persone dove la nostra rilevanza non può essere solo il tema della quantità. Dall'altra ci sono invece paesi che da subito questo l'hanno capito perché magari erano pochi milioni di persone, questo ne lo vediamo in tanti paesi dell'est Europa, del nord Europa. Le zone italiane non possono più pensare del dire lavoro a Milano, lavoro in Italia, devono cominciare a pensare come lavoro da tutto in tutto il mondo e qualsiasi progetto, qualsiasi pensiero, qualsiasi carriera professionale anche di un singolo non può più essere pensata locale ma deve diventare globale. E secondo te sempre tra 20 anni cosa saranno oggi, cosiddetti gaffa di oggi, quindi Google, Amazon, Apple, Facebook, cose che saranno tra 20 anni? Credo che quello che abbiamo visto è quanto le aziende possano costruirsi e distruggersi nel giro di pochi anni. Questa cosa continuerà e vivendo un po' per vari motivi lavorativi anche molto la Silicon Valley in questo momento, vivendo gli headquarter di queste grandi aziende perché spesso vedere il prodotto è tutto meraviglioso ma andare e conoscere le persone ti rendi un po' già conto di quali sono le aziende che stanno andando e stanno capendo questo cambiamento e quali pur essendo oggi super innovative e considerate super innovative non lo sono più. Allora credo che la vera sfida di domani sia capire quali saranno le prossime in un momento in cui la complessità della grandezza di queste diventa un problema perché hanno la capacità finanziaria e si è visto tra Instagram e Snapchat di quanto il avere utenti, avere capitali possa permetterti di distruggere un player anche più innovativo di te. In questo caso tu stai dicendo il fatto che Facebook vola provare a comprare Snapchat non gliel'ha data e Ivan Spiegel diceva che sai che ti metto le storie su Instagram e te le uccido. E l'ha ucciso, questo è un dato di fatto. Dall'altra però credo che vedendo tanti di questi colossi oggi pensandoli a vent'anni la metà non esisterà più, la metà sarà di secondo o terzo posto e magari però una di queste avrà davvero un potere forte. Il tema è poi come riuscire a bilanciare questo col temi politici perché sempre di più non diventano aziende ma diventano veri i propri stati con una quantità di dati, una quantità di attività importante e quindi la consapevolezza diventa uno degli elementi fondamentali delle sfide che abbiamo di fronte. Questo è collegato al mondo del lavoro, è collegato alla privacy, collegata un po' a tutto quello che sarà l'aspetto della nostra vita futura. La tua giornata tipo, proviamo a immaginarla, la sveglia che ora suona, la sera che ora va a nanna, come bevi il caffè per esempio? Ma diciamo che comincia molto presto, sono una persona che piace e ama svegliarsi presto e normalmente diciamo tra le 5 e le 6 è l'orario in cui lo passo a leggere, a informarmi, spesso non di cose puramente lavorative ma dal giornale cartaceo letto sull'iPhone al un po' di notizia online, ai social, a vedere cosa è successo un po' il giorno prima. Cerco poi di fare qualche attività sportiva, non tutti i giorni ma cercare di, dalla palestra alla piscina, al muoversi un minimo correndo se sono in giro, ma cercare di non pensare soltanto alla parte lavorativa ma anche un po' al proprio fisico che è fondamentale tanto quanto la mente e poi la giornata inizia che ogni mattina mi devo ricordare dove sono andato a dormire perché di media ogni sera in un posto diverso, sono una persona che va letto molto presto quindi cerco massimo per le 10, le 11 di andare a dormire anche perché sennò il giorno dopo sono devastato e durante il giorno di fatto lo passo principalmente a fare incontri, a conoscere persone, incontrare le persone del team, cioè cercare di capire qual è la strategia migliore da adottare in questo momento e i risultati a cui siamo arrivati. Non so neanche immaginare il tuo Google Calendar in che condizioni sia, però in tutto questo lo spazio per la vita privata, gli affetti, la famiglia, come lo trovi e soprattutto quanto tempo riesci a dare a queste cose? Diciamo che cerco di dedicare molto il weekend e diciamo tutto il più possibile dormire a casa quando riesco, anche se ultimamente sta diventando particolarmente impegnativo. Sono fortunato di avere una fidanzata da vari anni, siamo insieme ormai da più di 7 anni e questo mi permette anche di bilanciare un po' l'aspetto di lavoro sempre in giro, sempre in movimento, sempre in crescita con un aspetto invece che è un po' la casa dolce casa che ci tiene con i piedi per terra. Voglio provare a dare tre consigli a dei giovani che oggi possono diventare anche dei giovani imprenditori, non per forza degli start-up, utilizziamo anche il termine proprio di imprenditori e come soprattutto sopravvivere, tra virgolette, nel mondo dell'impresa, ad avere a che fare con la burocrazia, con le partite IVA e soprattutto riuscire a farlo in Italia. Consigli di sopravvivenza, digitale e imprenditoriale. Ma il primo è di sicuro il pensare globale, non si può più pensare che faccio una cosa, la faccio nella mia città, nel mio paese, nella mia attività, ma devo subito pensare come si faccia ad essere globali. Il secondo tema è nulla si fa da soli, dobbiamo da subito, e forse la cosa più difficile, ma aggregare persone molto più brave di noi che possano davvero aiutarci a portare la singola idea, la singola attività, lavorare con gli altri è l'unico modo per stimolarci e per costruire grandi cose. Il terzo tema è la passione, lavoriamo comunque una quantità di ore imbarazzante e se non riesco a mettere ogni giorno e fare ciò che ogni giorno, ciò che mi piace, rischio di non vivere per nulla, perché non sono i soldi, non sono qualsiasi obiettivo, intervista, attività che posso fare, l'unica cosa che ci può fare è quella passione che ci anima ogni giorno e ci permette di costruire cose incredibili. Non sono mai stato uno bravo di strategia, ma sono sempre stato uno che riesce nella tattica a sopravvivere e a muoversi e credo che sia la sfida più importante, perché sennò il rischio è definire la strategia a lungo termine e seguire solo quella, non capendo che poi nel percorso per arrivare a B ci sono mille strade diverse.